eccoci qua un avvio di gt racing e vai andiamo sulle strade andiamo a comandare vediamo se riusciamo a vincere una gara andiamo a comandare trovazzi trovazzi andiamo a comandare e dai e dai la via per continuare vai 3 2 1 via eccoci ed eccoci qua via della gara dai 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 corri 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 per il valore dei veri ridurre attendono la curva viene la curva attendono la pub arma vai vai attendo guarderei attento 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 al sole attento e accelera sempre corri 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 attento a riguardare il non prendere il muro e ralenti la velocità e dai forza vai 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 non fermarti mai vai non prendere il muro attenzione alle curve e svolta a destra e svolta a sinistra e vai in casa e accelera accelera sempre più veloce e sempre